Una situazione ormai sclerotizzata che purtroppo sta rappresentando delle criticità sempre più importanti per quello che è la vita sociale della città, enfatizzando alcuni aspetti di una nuova forma di povertà, povertà materiale, povertà economica ma anche povertà abitativa che permea tutti gli ambiti e tutti i livelli della nostra città, non soltanto alcuni quartieri, non è più limitata assolutamente a una parte della città purtroppo. La povertà abitativa si tratta tecnicamente della diminuita o scomparsa della capacità delle famiglie di pagare i canoni di locazione, ma non è l'unica purtroppo, alla povertà abitativa vanno associati altri due aspetti che sono la povertà educativa e la povertà culturale che in questo momento si registrano in città. Sicuramente la povertà è figlia dell'assenza di un'economia in sofferenza, quindi l'assenza di lavoro. Però a questa si associano comportamenti che vanno oltre quelli della povertà classica, ma è proprio una mancanza di capacità di gestire la vita comune. Dobbiamo pensare che in questi anni sono stati quasi più di 2.500 i contatti, le richieste pervenute allo sportello dell'Agenzia Sociale per la Casa, ma ognuno di questi non è di un individuo, è di nuclei familiari, quindi la criticità, la difficoltà va moltiplicata per 3, 4, 5 persone per capire le dimensioni del fenomeno.